Salve, voglio leggervi ora una mia considerazione. Dal titolo, questa vita non è la nostra casa. La nostra vita è carica di misteri. L'esistenza è da sempre considerata vita. In ogni vita nasce una morte come inizio e fine. La nostra vita nasce dal nulla e dal nulla ritorna a esistere, sia prima della nascita e sia dopo la morte di questo eterno vivere. La vita del mondo, degli animali e esseri umani è costellata da avvenimenti passati e presenti. Il futuro è previsto dal cambiamento come desiderio di bene e male.